Buon salve ragazzi e bentornati in questo secondo video di Stompi. Vi lascio quindi alla visione delle partite che ho giocato in Lega. Come avrete capito non è un mazzo esattamente nelle mie corde ma rimane un mazzo molto divertente da giocare. Vi ricordo che venerdì invece Jokero Legacy ancora insieme a zio Francone mi ha fatto questo regalo di voler continuare a fare video con me sul mio canale e poi ci stiamo divertendo un sacco a farli diciamo la verità. Buona visione! Monolanda, Monolanda, però c'è tanta speranza, c'è tanta speranza, c'è Nettlesentinel turno 1, nel caso in cui non peschiamo terra comunque facciamo Skargan. A me non dispiace, lui mal nega sé, abbiamo anche un Savaswipe molto forte, non mi dispiace rischiare una mano del genere. Ok, è Nettlesentinel, non so se ci siamo beccati tipo un mirrorino, se ci siamo beccati tipo un mirrorino è un mezzo macello, se è lui a Savaswipe. Già in mano, ma vediamo che cosa succede anche perché noi qua non abbiamo play diverse. Abbiamo quello e basta. Eeeh, proprio prendo. Cioè vorrei prendere. Non blocco. Va bene. Quante part in 3 mi vuoi fare? Skargan! Ok. Ok. Questo proveremo a ucciderlo. La speranza in realtà è pescare tipo una terra, fare Savaswipe... Oddio. Oddio. Boh, vediamo che succede, vediamo che succede. Lui può rimanere open per vines. E noi non peschiamo la terra, neanche per sbaglio. Eeeeh... Attacchiamo. Attacchiamo. Vediamo se vuole bloccare. Ok. Moriamo tutti e due. Facciamo Quirion. Mi riprendo in mano la foresta. E qua, vabbè, devo fare Skargan da... E' tristissima questa cosa, è tristissima. Però dobbiamo farlo, Skargan da 1. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. Questi sono 5 danni. Va bene. E in realtà possiamo arrivarci a ucciderlo quello Skargan. Però... però così... è un disastro, eh. Va boh, attacchiamo con questo. Vediamo se blocca di Skirge. Vediamo un po'. Tanto noi questo attualmente non possiamo bloccarlo. Attualmente. Sì? No? Forse? Ok. Ok. Ehm... no. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Stappiamo... Ok. Terra, Nest Invader. Così mettiamo un Pippolino. Poi potremmo andare a saccare per fare Hunger, far crescere un pezzo e tirare Savaswipe. O almeno quella poi è l'idea. Vediamo che cosa si inventa lui però. In teoria... Abbiamo due turni che si sono appena trasformati in un turno. E mo' dipende tutto da che cosa... Da che cosa ha in mano lui come monocarta. Ehm... Ma... Inutile pensare di girarci troppo attorno. Noi faremo... Sacchiamo il Pippolo. Terra... Anger... Qua sopra. Attacchiamo... Prima di tutto. L'attacchiamo. Il problema è che poi lui ha pure uno Skirge. Da qui ci mette un Rancor. E secondo me non ce la facciamo comunque. Ehm... Però... Possiamo poi pescare anche noi uno Skirge. Non credo basti. Non credo basti. Dobbiamo pescare tipo un altro Pipe Effect. E per forza. Dobbiamo pescare un altro Fight Effect. Cosa non troppo semplice. Ok. Ok. E... Silana. Ecco. Pure Silana ma c'è. Ehm... Non credo ci sia una via di uscita quindi concediamo. Ok. 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 Allora. Mirror di Stompi. Ce lo dobbiamo giocare di... Da Control. Quindi... Dentro anche i Longbone. Gatshot mi sembra un po'... Non proprio ottimale. E le Panguidi mi sembra veramente lenta. Ehm... Come anche le Silana. C'è più che altro le Silana non credo sia il match up in cui brillino. E il resto in realtà tutto abbastanza giusto. Penso. Il Rancor. Se giochiamo un po' più da Control. Proviamo a fare questa robina qua. Seguiamo i Gatshot. E... Anche Weather the Storm. Non è... Non è sbagliata. E via. Sì, 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 sì. Giochiamo... Control Stompi. E vediamo un attimino che cosa va a succedere. Allora... Allora... Ehm... Abbiamo doppia Quirion. Teniamo. Epic Confrontation. Gatshot. Lui Malliga 6. Vedete che il piano già prende forma. Prende forma. Lui Malliga. E noi abbiamo Gatshot. E... Un'altra Removal. Quindi... Magari tiene anche lui in Monolanda con la Quirion. Noi abbiamo Gatshot. Abbiamo già mezzo risolto. Che fai? Nettle Sentinel. Va bene. Foresta. Facciamo uno Skirge. Ok. E... Passiamo. Direi che possiamo passare. Ok. Vediamo un attimino che cosa fa lui. Se ci uccide un pezzo abbiamo Hunger. Per... Farne crescere un altro. Barring tree. Ok. 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 E poi... Sava Swipe. Sava Swipe. Ehm... Ffff... Dunque... Ehm... Ok, lo attacca, e va bene, e io faccio hunger sull'Aquirion, ok, stappiamo, longbow, longbow, e longbow è una carta che ucciderà alcuni pezzi, lo facciamo, con doppiaquirion poi non è male, non è per niente male, attacchiamo con l'Aquirion, poi andiamo a stapparla, questi sono 4 danni gratuiti, stappiamo, poggiamo una foresta, passiamo, ok, e vediamo che succede, che succede, nel prossimo tour la possiamo equipare all'Aquirion 1.1, e tenerci open, perché poi abbiamo la possibilità di dire, pingo, stappo, pingo, se risponde, gutshot, e andiamo a uccidergli almeno un pezzo sicuramente, poi abbiamo ancora epic confrontation e cose, rancor su, su quel pezzettino lì, proviamo a attivare gutshot, vediamo se ha anche una protezione in mano, io sarei molto contento di toglierti anche rancor, perfetto, 2x1, potrebbe avere tipo un hunger a questo punto, mi appoggio un rancor, sulla Nettel, ma boh, sulla Nettel va bene, andiamo a 9, ah, e blocco questo, hai una carta in mano, però si tappe da out, non l'ho capita questa, non l'ho minimamente capita, ma non importa, ma visto così, io faccio un epic confrontation, uccido il pezzo, lui si riprende in mano al rancor, però non ha più bestia in campo, io ho meno per 6, quindi la race è tutta dalla nostra, stappiamo pezzo, non si sa mai, possiamo fintare cose, tipo, tipo non hunger, perché l'avremmo tirato adesso, però è un vines, lo possiamo sempre fintare, Nest invader, yes, cioè yes, vavo, ok, ok, allora, noi qua possiamo dire, tappo 3, equippo la Quirion, equippo la Quirion, ti uccido nel Drazispawn, mi sa che qua voglio equipare, non so se voglio equipare, ma in realtà si, 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 poi il prossimo turno così abbiamo Savaswipe un po' più forte, vogliamo uccidere il Drazispawn, ok, così perlomeno non può fare i giochini con, con hunger, perché attualmente è tappato, comunque ma nemmeno nel caso, qua secondo me andrà a 4, se no si perde di nuovo il board, ok, ok, dovesse tirare tipo un Elephant Guide sopra, piuttosto mi perdo le due terre, cioè torno indietro come mana base, però io uccido il pezzo, quindi anche questa è la forza di Viridian Longbow, giocando l'Equirion, ok, questo non è rilevante, quindi va bene, ottimo vuol dire che non ha altre risposte, e boh, dimmi tu, e River Boa, ok, e morto, tipo tutto, io qua posso uccidergli il Nesting Vader, e ma oddio, ci può uccidergli tutto, tra l'end e il mio turno, posso fare, se, stappiamo questo, andiamo a dare un danno su River Boa, ok, stappiamo, facciamo un danno, qua, qui sopra, tingiamo uno, stappiamo, pam, pam, terra, un danno, Quirion, morto, sì, l'altro potevo ucciderlo pure di arco, in quello spot, bene, bene, la 6 data a me sembra abbastanza giusta, poi, ripeto, è un approccio, un po' particolare, se vogliamo, quello di giocare un po' da control, però, alla fine abbiamo talmente tante removal, ci stiamo parlando di, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 removal in un mazzo che deve aggrare, e, in più, comunque, i nostri pezzi bloccano, quindi, va bene, molto bene, ok, allora, allora, abbiamo la monowather, abbiamo nesting vader con hunger, net, 6, non abbiamo removal, però, lui maldica 6, però abbiamo una bella partenza, riusciamo ad essere aggressivi, abbiamo un pezzo che ci guadagna vite, non è, non è male, non è male, quindi, vediamo un po' come si sviluppa la partita, però, però, non è male, in più possiamo, a un certo punto, sballare completamente i conti con weather, del tipo che, se lui si fa i conti, perché essendo partito lui, dovrebbe riuscire a, a imporsi subito, e quindi avere un clock, più pesante su di me, a un certo punto posso tirare weather, e ribaltare tipo, il tavolo, e ribalteremo il tavolo, anche se peschiamo soltanto terra, come abbiamo appena cominciato a fare, però, 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 che vuoi fare? Sava swipe, subito, così, va bene, però almeno non avranno troppo a 2, guardiamo sempre i lati positivi, guardiamo sempre i lati positivi, speriamo siano solo 4, che si fa anche hunger, diventa invece proprio un problema, ok, e scarga, la 2 carti in mano, altra terra, giusto, giusto, molto giusto, vabbò, ok, 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 e qua io nel caso comunque blocco, almeno questo, ok, ok, nest invader, va bene, una carta in mano, sacca il pippolo, ok, terra, e facciamo skirge, e, ma direi che per il momento possiamo anche passare, scarga, lo possiamo tirare poi dopo, aumentando lo store count, poi nel caso per weather, poi vediamo anche che cosa fa lui, speriamo abbia pescato di buona bestia, o una terra, e qua abbiamo una giocata interessante, rancor, va bene, va bene, molto bene, va molto 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 bene, picchia con tutto, dimmi che picchi con tutto, ok, allora, qua facciamo, blocchiamo un pezzo, blocchiamo l'altro, ok, sacchiamo il pippolo, appoggiamo, questo su di lui, e tiriamo anche weather a questo punto, gli portiamo via un pezzo, e bam, guardate che turno, che turno, guadagniamo un sacco di vite, gli abbiamo portato via il pezzo, noi abbiamo una race in confronto a lui, qua attacchiamo, siamo più alti di vite, lui va a 16, ci deve risolvere questo skirge, facciamo barn in tree, ci teniamo la foresta come, boh, finta per qualcosa, appoggiamo doppio pezzo, molto bene, 26 a 16, molto molto bene, in più lui deve pescare qualcosa per stappare la Nettel, se no non fa assolutamente nulla, vabbò, prenderemo tre danni, tanto noi ne guadagniamo quattro a turno, Viridian Longbow, yes, attacchiamo con tutto, per quanto sia interessante questo Viridian Longbow, facciamo troppi danni in più, in questa maniera, e passiamo, e vediamo che cosa ci propone lui, 27 a 8, intanto, comunque skirge, ok, ok, mi rompi skirge, però ti perdi anche il pezzo, comunque è stato un 2 per 1, e noi guadagniamo comunque quattro vite in più, e attualmente lui se attacca, comunque mi da, cioè abbiamo comunque due turni di Glock, quindi lui è quella silana, a un certo punto dovrà sacrificarla, ma lui sta rischiando un sacco, sta veramente rischiando un sacco, perché se io avessi pescato tipo un Vines, a meno che lui non abbia Vines in mano, però, non mi sembra tutti male, diciamo, appoggiamo il Nest Invader, passiamo, e siamo stralita nel prossimo turno, cioè devi appoggiare qualcosa, ok, ok, quindi andremo a uccidere lo spawn, poi con, con l'arco, perché se no, eh, sei morto così, non capisco se c'è qualcosa che mi sfugge, o, però facciamo terra, Epic Confrontation, proviamo a uccidere lo spawn, ah, in realtà dovevo fare, sì, in realtà qua dovevo fare, terra, tappo 3, equipo, lo spawn, uccido lo spawn, sacco il pippo, lo tiro, Epic Confrontation, era un po' più clean, campo, dunque, non facciamo nulla, ma lì, va bene, va bene, da qui dobbiamo mettere sotto, Elephant Guide, sì, where, ok, e appoggiamo il primo pezzo, adesso, speriamo che questo riesca a fare dei danni, così appoggiamo doppio scargan, 2, 2, che è la cosa più importante, quindi vediamo un po' che cosa ci propone, post side dobbiamo stare tipo attentissimi alle cannonate, noi vediamo se legge la giocata o meno, tecnicamente qua, va bene, speriamo che un bolas tipo, sarebbe cosa buona e giusta, ok, attacchiamo, qui però c'è una starter grossa come una casa, quindi per il momento appoggiamo una Silana, che perlomeno sta fuori la starter, ok, tra l'altro Silana se riuscissimo a pomparla, magari con un anger, sarebbe fortissima, perché tipo lui non ha modo di gestirla, quindi, allora, contro i fatine, tecnicamente riuscire a giocare come fossimo degli Aura, potrebbe essere molto 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 forte, ok, lui passa, quasi, no, è indeciso, e, se non giocano, il problema è che appunto sta tutto quanto sotto starter, non è bellissimo, però adesso vediamo, ok, e, dobbiamo provare ad appoggiare uno Scargan, e ne appoggiamo un altro, non c'è starter comunque, passiamo, ok, qua speriamo tipo removal su Scargan, appoggiamo anger su Silana, e quasi GG, prende un'altra montagna, Termo Alchemist, non è fatine, non è fatine, e, vediamo se riusciamo, allora, il problema di fare, Sava Swipe, non lo può avere anche counter, è che stiamo sotto botto, però, fa nulla, se no devo sprecare anger su Silana, non stiamo sotto botto, ma, non è bello uguale, facciamo così, e attacchiamo, ok, e comunque adesso ha il suo, il suo board da gestire, questo Termo Alchemist, in realtà adesso comincia a fare dei danni, importanti, Poteva forse aver senso anche fare anger su Skirge, però, si rischiava comunque tipo uno Scred, quindi ho preferito comunque farlo sulla Silana, va bene, snap, va bene, lui ha due carte in mano, ok, e Ponder, e il discorso è che quelle carte in mano, anche se poche, grazie ai Kentrip, continuano a ciclarsi, e quindi sparare danni, va bene, un sacco di cose, ok, dunque, e attacchiamo, qua poco da fare, lo mandiamo a 5, siamo all'Italia del prossimo, comunque, e appoggiamo un Nesting Vader, e appoggiamo lo Skargan, va bene, va bene, qua possiamo tranquillamente yieldare, lui ha tre carte in mano, considerando che già solo questi sono l'Ital, e anche lo Skargan non può bloccarlo, ma non è vero, può bloccarlo di Harker, boh, vediamo che cosa si inventa, post side, mettiamo qualche removal aggiuntiva, Lava Dart, Lava Dart con doppio pezzo in campo, vuol dire tre danni, saccando una montagna, sono altri tre, quindi sono sei danni con una spell, a costo uno, non benissimo, non benissimo, molto molto forte questo Lava Dart, tra l'altro lui potrebbe decidere di tirare Lava Dart su Skirge, bloccare lo Skargan, stappando il Termo Alchimista, bloccando anche il Nesting Vader, va bene, questi sono stati cinque danni per me, e Skirge morto, e le Fangide, boh, proviamo a tirarla, questo pazzo non so, non so se gioca counter o meno, a questo punto non penso, quindi doppio Epic Confrontation, mi sembra forte, come anche tutte le Weather the Storm, ora non mi sento di sei dare Gutshot, per uccidere il 2-1, sembra un po' senza troppo senso, e qui andiamo a togliere gli Elefanguide, che sono lentissimi, e andiamo a togliere, almeno una Quirion, e un Rancor, non mi fa impazzire, è un Rancor, sì, 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 va bene, più che altro perché lui gioca una marea di botti, e ci esponiamo un po' troppo dei 2-1, dobbiamo limitare un attimino quella, quella parte lì, questa la kippiamo, ok, e qua facciamo uno Skirge, ok, qua se lui si dovesse dappare, e kippiamo lo Skirge con Rancor, indubbiamente, ok, terra, non possiamo kippare in questo spot, lui è open, e intanto torniamo a 19, io a questo punto faccio, un doppio pezzo, e mi sa che facciamo un doppio pezzo, quindi Skirge 2-2, e altro Skirge, ok, questi due qua, se sopravvivono, ci recuperano un sacco di vite, ovviamente Cannonata, terra, e Nesting Vader, sacchiamo questo, Nesting Vader, e abbiamo comunque 2-2-2 in campo, poi se mi fa un'altra Cannonata, bravo lui, Termo Alchemist, Rancor, vediamo se ce la facciamo, ok, attacchiamo, vediamo se riusciamo a pintare, magari non blocca appunto, perché un Anger ucciderebbe il pezzo, Riverboa, che perlomeno questo si rigenera, Cannonata a turno 3, è tipo, la carta più forte che può tirarci, infatti ha già risolto, un buon board, ok, questo Riverboa comunque non lo potrà andare a bloccare, quindi saranno due danni a turno, siamo già a tipo 6 danni a turno, ok, qua c'è una removal, sicuro, se vuole uccidere il Riverboa, mi deve fare doppia removal sopra, 8 lì sopra, va bene, ok, però perlomeno l'ho usato nel suo, io sono ancora 17, va bene, e, botto sul Riverboa, lo rigeneriamo, e qua mi deve fare un altro botto, altra removal, va bene, sicuramente avrà un'altra removal, non è quello, scred, va bene, però perlomeno, siamo a 15, lui ha poche carte in mano, ottimo, io qua attacco prima, che secondo me non blocca, ok, e infatti, e appoggiamo semplicemente il Riverboa, e passiamo, ok, 4 carte in mano, tappa 3, che disastro, che disastro, questo è veramente forte, ma adesso ogni volta che mi fa, che lo tappa per fare un danno, si pesca pure una carta, che disastro, oh, sa la swipe, dunque, dunque, qual problema è capire, che cosa andare a uccidere, se questo o il termo alchimista, perché se lui poi vede un'altra bestia, li può comunque accoppiare, e continua a pescare, però se togliamo il termo alchimista, è meglio, se no poi ci uccide, speriamo che non abbia un'altra bestia, e, uccidiamo quel pezzo, attacchiamo, e, passiamo, poi vediamo nel caso di tirare una Weather the Storm, non fare un'altra bestia, Faithness Looting va bene, Faithness Looting va molto bene, da considerare che noi, il prossimo turno, tecnicamente, siamo l'Ital, comunque poco mana, scarta un'isola, e un dispel, ok, stappiamo, altro Rancor, Rancor sul Nesting Vader, mi deve tirare per forza una removal sopra, Prantic, ok, Lava Dart, Lava Dart, Va bene, devi flashbackarlo però, se no non funziona, bam, ok, io potrei tirare Weather, ma, non so quanto sia rilevante, preferisco tenermi, la possibilità di, di rigenerare questo River Boa, ok, lui torna ad avere soltanto tre mana, e ha pochi, ehm, quindi è poco mana, e poche carte in mano, io sono contento, mi frega un po', mi fregherebbe un po', Lava Dart, perché io potrei rigenerarlo, e poi morirebbe, col flashback, però, però, vediamo un attimino che cosa si inventa, cosa fortissima di River Boa, che appunto non può essere bloccato in questo matchup, quindi, o lo risolve adesso, o è morto, facile, 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 appoggio a Nash Barren, ok, flashback di looting, sta andando alla ricerca in un Lava Dart, perché qualunque altra cosa non gli serve, e infatti concede, bene, Enkurin, vabbè, quello che è, questa è una mano, che ha un senso, ha un suo senso, keep, lui maldica 6, va bene, ok, va molto bene, e qua partiremo di Terra Little Sentinel, se non peschiamo terra, facciamo attacco, Quirion, e Scargan, se tutto va bene, per poi avere già due mana al prossimo turno, tanto mi saluta, va bene, e qua partiamo Terra Little Sentinel, con quest'altro Scargan, lui è partito con la Terra Rosso Nera, se sta giocando Rakdos, è un disastro, perché tipo, gioca quasi solo removal, sto mazzo, ok, e botto, mezzo macello, vabbè, facciamo Quirion, stappiamo Quirion, e riprendiamo la foresta, foresta, facciamo Scargan, e passiamo, qua siamo costretti a farlo, perché, se no, non facciamo, veramente nulla, poi ne abbiamo un altro, Scargan in mano, quindi vediamo un po' che cosa succede, e ripeto, questo è un matchup, che io ho giocato tante volte al contrario, ed è veramente un macello, tanto mi toglie Quirion, giusto, oddio, avrei potuto pintare cose, però, vabbè, intanto diamo questo danno, e appoggiamo un altro Scargan, questa volta come 2-2, ok, e qua se parte con i rattini, e cose varie, un macello, va bene il Chainer, guadagna due vite, tre carte in mano però, e altro Chainer, non va molto bene questa cosa, quindi, Nettel Sentinele, passiamo, 4 removal dritte, così, se ha preso la mia, no, non è esattamente la mia lista di Rakdos, perché io non gioco i Coin Decay, però, sono molto simili queste liste, e la base è quella, è molto forte in questo meta, eh, ma è molto forte, terra, vabbò, attacchiamo, fino qua, poco da fare, ok, e facciamo una Skirge, adesso, perlomeno abbiamo la possibilità, di provare a tirare tipo un Anger, se, in risposta, c'è post removal, il discorso è che lui ha, 2, 4, 5 mana già, e ha comunque doppio Chainer al cimitero, quindi, non siamo proprio freschissimi, cast down, proviamo a fare un Vines, prima di tirare Anger, perché, se ci uccide anche l'ultima bestia in campo, è veramente un macello, qua, vorrei che tipo, vorrebbe scari tipo una terra, e tirare un Elephant Guide, 4 carte in mano, questo doppio Nightwist, per essere stato un po' un macello, Shittering, va bene, boh, vediamo che cosa succede, qua tirerei, proverei a tirare Sava Swipe, vediamo se ce lo fa tirare, o se ha un Bolt in mano, no, entriamo in Combat, e, facciamo Anger su, boh, su Skirge, bene, ci riguadagniamo qualche vita, abbiamo un 2-2, un 4-4 sul campo, lui va a 16, e, mo' vediamo, che cosa ci propone, adesso, 7 mana, può fare Chainer, avendo fatto Anger, da questa parte, si fa Chainer, sacrificiamo ovviamente, Nettel, 4, 5, 6, 7, Chainer, immagino, ok, ok, via Nettel, terra, al top deck, mai nella vita, vabbè, appoggiamo Riverboa, attacchiamo, con lo Skirge, intanto va a 6, ne siamo a 26, se qua fa Chainer, mi sa, che sacrificiamo comunque Riverboa, perché, tanto, lui ha un sacco di modi, di, buono, 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 GG, ottimo, lui ha un sacco di modi, di uccidere questo Riverboa, anche soltanto, tipo, Ecoin Decay, non permette di rigenerare, se pescavo una terra, comunque avrei dovuto metterla sopra Riverboa, cioè, il, le fanguide sopra Riverboa, e poi gioca i Chainer, ok, ok, e, che cosa dobbiamo andare a sideare? In realtà, tipo, nulla, perché, l'unica, lui gioca le pesti, però non mi sento di dover sideare, Glyphool Sabotage, cioè, devo riuscire a fargli danni prima, se no, tanto, poi non la recuperiamo più, quindi, in realtà, boh, non sediamo nulla, non credo abbia senso sedare nulla, questi sono scarsi, questi non li voglio, questi non hanno senso, Weather the Storm, non è un piano, e Glyphool Sabotage anche, quindi, poh, va bene così, ok, ok, e, questo doppio Sabaswipe, in realtà, è molto, molto brutto, però abbiamo, abbiamo tutti questi pezzi qua, che invece sono interessanti, quindi, la teniamo, lui sta mallegando a 6, lui sta mallegando a 5, e qua ci permette di stare, poi nel ditto, riverboa, se poi rimane sul campo, toglie qualche sua removal, non tante, ma, qualcuna la toglie, scarga, la dobbiamo appoggiare subito, ok, montagna, va bene, montagna, e, Night Whisper, va bene, ok, qua appoggiamo un Nesting Invader, siamo, già, un minimo fuori dai ditto, e diamo un danno, un fortissimo danno, e passiamo, e intanto 17, qua possiamo tranquillamente yieldare, e, prossimo turno, prossimo turno, probabilmente Saccole, il Drasi Spawn, e Foresta, a lui saltalendroff, salta lendroff, e, buono, e io faccio, faccio così, Saccole, il Drasi Spawn, faccio, anger, qua sopra, se tira removal, faccio, vines, e, se non tira removal, attacca, se non tira removal, otteniamo un altro Nesting Invader, ok, vines sopra, bene, quindi questo è appena diventato un 4-4, e, attacchiamo, peccato che attualmente stiamo, sottoeditto, eh, però, perdiamo un Nesting Invader, ci rimane un 4-4, lui comunque va a 11, vedete che ne stiamo predando, ok, stiamo comunque predando nei primi turni, qua ho un tipo miscliccato, ma dovrei aver premuto abbastanza velocemente, per recuperare, ok, eh, non facciamo Riverboa, oh sì, siamo sottoeditto, con Riverboa, che è una cosa molto spiacevole, molto, molto spiacevole, no, lo faremo un prossimo turno, più che altro, che almeno se tira editto, sacrificiamo semplicemente, nel Drazispawn, ok, comunque, dicevo, stiamo letteralmente, predando, nei primi turni, di gioco, lui si è inchiodato, un attimino, cioè, mi ha ligato a 5, però si è inchiodato, come, come terre, e, sta prendendo un sacco di schiaffi, per questo, va bene, qua appoggiamo Riverboa, e, siamo in Italia, il prossimo, soprattutto sotto removal, tra l'altro, Terminate, che non permette di rigenerare, va bene, e, gonfiamo, una net, cioè una, un Nesting Vader, così siamo comunque letali, si appoggia a creatura, abbiamo doppio Savaswipe, per rispondere, Liliana Spectre, va bene, e, GG, morto il pezzo, attacchiamo, e, fine, bene, 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 solo perché si è inchiodato, però, solo perché si è inchiodato, perché di base, ripeto, il matchup è molto spostato dalla sua, come dicevo, Stompi, preda tantissimo, nei primi turni, dei vari midrange, e dei vari control, perché appunto, perché appunto, se questi mazzi si inchiodano un minimo, Stompi riesce a generare, una quantità di danni, incredibile, solite info aggiuntive, trovate la schedule degli eventi dell'Oblivion Team, con tutti gli eventi programmati sulla piattaforma Viola e su YouTube, vi ricordo se trovate interessanti questi contenuti, iscrivetevi al canale, lasciate un like, e vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti.